SON LEONE Venticello, niente nuvole, cosa chiedere di più. E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Ecco qualche dettaglio interessante, il primo stadio eco-compatibile al mondo e per alimentarsi usa in gran parte energie rinnovabili. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto quasi sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico ma anche tecnico. E dunque calcio d'inizio. Luca secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Kayekon, un'ala completa, generosa e sempre insidiosa. Lui nasce come punta centrale e si vede nei movimenti, nella sua capacità di aggredire gli spazi e nel suo senso del gol. Ma ormai è diventato una... Ottima la parata del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reggito bene. Parà con grande sicurezza. Blaovic. Dan Khan. Ottimo pallone in profondità. E passa. Il portiere la spedisce su. Locatelli. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco Di Bala. Chiesa. Costringe l'avversario a farlo. Non è vicinissimo, ma chissà. Se se la sente fa bene a provarci. Prova il passaggio lungo. La giocata però non gli riesce. Danilo. Sicuri in fase di palleggio. Blaovic. Kayekon. Si allunga e trova la palla. Dan Khan. Pulgar. Palla in avanti verso il compagno. Prova a fare tutto da solo. Ecco Morata. Allontana. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Alfred Duncan. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è fallo. Lungo pallone in avanti. Blaovic. Si allunga per arrivare al pallone. Locatelli. C'è la palla lunga. In avanti. Di bala. Mossano. Morata. È stato splendido l'intervento del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estriamo di pensiero. Tenta di scavalcare la mediana. Gioca una palla lunga. Che è con. Piesa. Pallone lungo. In verticale. La mette in avanti. C'è arrivato lui. Si è messo sulla traiettoria quando sembrava col fatto. Eroico. Blaovic. Cerca la profondità. Scodella in avanti. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Pericolo. Bella. Occhio. Parata di Scesni. Locatelli. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E questo è fallo. Non ha dubbi l'arbitro. Buon'avventura. Rimessa in gioco dunque. Ecco Di Bala. Intercetta il passaggio pericolo. Buon'avventura. Odrio Sola. Milenkovic. Alfred Duncan. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Recupera Palla con un ottimo intervento. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Di Bala con una buona possibilità. Decide di sfruttare la fascia. Di Bala. Prova la conclusione. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. E intrambe le formazioni riposo dopo 45 minuti in più gli attacchi. Hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Squadre che entrano negli spogliatori senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Alexandro in fuorigioco. Buonaventura. Cajarón. La mette al centro. Riesce ad intercettare. Paolo Di Bala. Prova a giocarla in profondità. Di Bala. Morata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si libera la grande. Attenzione al tiro. E insaccano. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Rubata palla agli avversari. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte dall'1-0. Si riparte dall'1-0. E' un contropiede portato. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cerca l'uomo là davanti. La mette sulla sinistra. Bernardeschi. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'arte. Paolo Di Bala, pronto dalla bandierina. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Difesa ancora decisiva. Ballone lungo, in verticale. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Morata, Di Bala. Alfred Duncan. La gioca in profondità. Pulgar sul pallone. Palla riconquistata immediatamente. Pulgar è l'autore del fallo. Bernardeschi. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Ottima giocata. Buona occasione, pronto al tiro. E sì, per la rete. Riescono Pugno a pareggiare, tutto da decidere. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Bravosa parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ar masché. Perfetta parità, dunque. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. Chiesa. E l'arbitra segna un calcio di punizione, segue dove farlo. Di giallo sembra la risposta adeguata, ma infatti è così. E sembra che si uscina un po' malcuncio dal contrasto. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Milenkovic. Cajekon. Provano a ripartire da dietro. Milenkovic. Prova a prolungare in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si fa avanti in territorio nemico. Occasioni da... Splendida reazione del portiere! Gibala. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Si, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Prova a verticalizzare. Di bala! Contrasto in scivolata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare gli estremi. La gioca a sinistra. C'è un'opportunità! Di bala! Riesce a mettere fuori. Scodella in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Siamo quasi alla fine. Devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Unico vero vincitore l'equilibrio. Partita che finisce in pari ovviamente. Sentiremo poi in settimana nelle interviste. Grazie.